L'Aquila in pieno clima natalizio, il comune fa bella la città con allestimenti luminari e un ricco cartellone. Dopo un'estate buona dal punto di vista dei numeri lanciati anche dalla visita di Papa Francesco e la conseguente presenza di molti pellegrini, ci si riprova anche in questo inverno a rendere la città pedibile per i turisti. Alberghi e commercianti scaldano i motori, ma il Natale, come testimonia Daniel Franchi, direttore commerciale di MySuite e della Compagnia del Viaggiatore, non è alta stagione ma è legato ad un turismo di ritorno. Il Natale, come al solito, è limitato, il movimento turistico sicuramente non è una data di alta stagione, limitato soprattutto al turismo di ritorno o a familiari che vengono, che scelgono di venire all'Aquila per trovare la propria famiglia di origine. Noi siamo un po' più fortunati di altri perché avendo un momento conviviale come il pranzo di Natale che organizziamo, di sicuro gli permettiamo di avere un luogo dove stare insieme. Il Capodanno invece al momento è fermo, arrivano le prime richieste, come al solito ci si riduce sempre all'ultimo momento, molto dipenderà dalla neve, soprattutto dall'identità che riusciamo a dare a questa città. È un problema atavico secondo me, se riusciamo a farla diventare una città di montagna diventerà una città da Capodanno, da Befana e fino a tutto il periodo invernale. Al momento non viene percepita così. Il Comune in tutto questo prova a fare di più e il tema è stato affrontato anche in una recente commissione comunale durante la quale si è parlato di un'eventuale imposta di soggiorno per il turista. Per Franchi l'introito per il Comune sarebbe irrisorio ad oggi. L'imposta di soggiorno è un fenomeno normale, cioè tutte le città ce l'hanno, questa città ha avuto la sua storia che sappiamo e pertanto è stata rimandata. Mi auguro che non venga utilizzata per la promozione ma per il semplice motivo che il gettito fiscale che verrà fuori dall'imposta di soggiorno, visto il numero di camere e l'occupazione che mediamente per l'80-85% dell'anno è uso singola, quindi dimezzerebbe quel gettito, è irrisorio per poter immaginare l'istituzione di un ente di promozione. L'altro motivo è perché l'amministrazione non deve fare promozione, non è il suo ruolo. Il ruolo dell'amministrazione è creare un ambiente piacevole con dei servizi utili per i residenti e per i turisti che non sono altro che dei residenti momentanei, che apprezzeranno le stesse cose che apprezzano i residenti, quindi il bene, la nuova alimentazione e soprattutto benissimo la pedonalizzazione perché permette un traffico non veicolare ma lento, quindi a piedi, che aumenta sicuramente lo shopping, aumenta la fruizione del bello che abbiamo intorno e soprattutto va a massimizzare l'investimento fatto con la ricostruzione.